via un minuto di rivoluzione dialogo sopra due massimi sistemi del signor Galileo Galilei Linceo sono tre personaggi per Platone l'universo è formato a partire dai triangoli per Aristotele l'universo è formato a partire dai cerchi oggi Atolomeo è il patrono degli astrologi quel copernico a partire da metà del Cinquecento diventiamo pianeta errante significa perché la pietra cade si chiede Aristotele si risponde perché vuole tornare al suo posto misterio che dubitarne l'ha detto Aristotele Galileo è diffidente non si chiede perché si chiede come prima di parlare Galileo deve vedere è quello che cerca a occhio nudo se non lo so l'occhiale non esiste lo fa lui avesse letto il libro di Copernico prima non capirebbe quello che vede ma siccome l'ha letto dice adesso parlo basta prudenza il libro di Galileo copia sulla carta è arma potentissima aspetto eresia grazie a tutti grazie a tutti